In questa seconda parte del capitolo sulla penteggiatura partiamo dal punto. Lo vedete nella vignetta che il punto si ferma e dice io sono il punto e mi fermo qui. In effetti il punto o punto fermo indica una pausa lunga e può concludere una fase semplice o un periodo. Vediamo le differenze dagli esempi. Oggi è proprio una bella giornata, oggi è proprio una bella giornata, due punti, il sostizio d'estate, virgola, c'è un gran sole, iniziano le vacanze. Nel primo caso conclude una frase semplice, nel secondo caso conclude un periodo, ossia l'insieme di più frasi. Quando il punto indica uno stacco netto e conclude un capoverso abbiamo il punto e il capo. Il testo che segue continua nella riga successiva. Sì, ma cos'è un capoverso? Ecco pronto la definizione di capoverso. Il capoverso è la porzione di testo compresa tra un punto a capo e il successivo punto a capo. Ma per andare a capo ci sono delle regole precise. Vediamo le regole per l'uso del punto a capo. Prima regola, una sola idea per capoverso. Vai a capo quando hai finito di esporre un'idea, un'informazione, per passare a una nuova. Seconda regola, capoversi di lunghezza simile. Non scrivere capoversi più lunghi di 10-15 righe, ma neanche di una-due righe. Perché? Se il capoverso è troppo lungo è faticoso da leggere, è di difficile comprensione. Se il capoverso è troppo breve non sviluppa adeguatamente l'idea. Inoltre, sarebbe buona pratica, già i documenti elettronici, i giornali e i libri lo fanno automaticamente, applicare un rientro quando si fa capo. Cioè lasciare uno spazio bianco di 5 o 6 caratteri all'inizio del rigo successivo. Per segnalare meglio l'inizio di una nuova idea o di un nuovo concetto. Ma ci sono anche altri usi del punto. Il primo è, nelle abbreviazioni, il punto segue il troncamento di una parola di cui vengono scritte, di cui rimangono una o poche lettere. Esempio, spesso invece di numero scriviamo N puntato. Oppure invece di telefono scriviamo TEL puntato. O ancora invece di eccetera scriviamo ECC puntato. Nelle sigle o acronimi, le acronimi sono delle parole formate da iniziali di altre parole, segue le lettere che costituiscono le iniziali di alcune parole. Esempio, SLM, S puntato, L puntato, M puntato, significa sul livello del mare. DPR, l'abbiamo sentito spesso nominare durante il Covid, decreto del Presidente della Repubblica. Sono puntate le parole più importanti che formano questa sigla, questo acronimo. Attenzione però, nel caso di sigle molto diffuse, ormai diventate delle vere e proprie parole, non si usa il punto dopo ogni lettera. Per esempio, noi non diciamo mai è arrivata la bolletta dell'ente nazionale per l'energia elettrica, diciamo è arrivata la bolletta dell'Enel. Non diciamo metti sulla radio televisione italiana, ma diciamo sulla RAI. RAI è diventato sinonimo di televisione pubblica, così come Fiat è un marchio di automobili, in realtà significa Federazione Italiana, Fabbrica Italiana Automobili Torino, ma ormai non ci mettiamo più i punti, così come nell'ONU, oppure andiamo a fare una passeggiata in montagna col CAI, sappiamo tutto che il club alpino italiano non ci mettiamo più i punti, perché sono entrate nell'uso comune. Il punto conclusivo di un'abbrevazione a fine periodo serve anche da punto di chiusura. Una frase come Giulio Cesare fu ucciso nel 44 a.C. ha già il puntino della C. Se ci mettiamo un altro puntino non va bene, quindi la scrittura corretta è la prima, la seconda viene segnata come errore. C'è già il puntino della C che indica la chiusura della frase. Il punto e virgola, il punto e virgola, vedete, noi resistiamo un po', siamo il punto e virgola, indica una pausa più forte della virgola, ma meno netta del punto, una pausa un po' più lunga. Si usa principalmente per separare liste complesse, cioè formate da più parole o più frasi. Per esempio, abbiamo visto che quando ci sono delle liste formate da diverse parole c'è bisogno di un po' più di tempo di pausa per passare da un elemento all'altro. Viene usata davanti alle congiunzioni, dunque, quindi, perciò, insomma, infatti, tuttavia, per concludere un periodo articolato ed evidenziare l'importanza della frase che segue. Oggi ho preso un brutto voto a scuola, punto e virgola, un po' di pausa lunga, infatti non avevo studiato. In questo caso ci va il punto e virgola. Nei giornali e negli scrittori contemporanei il punto e virgola è sostituito direttamente dal punto per alleggerire un po' e per velocizzare un po' la lettura, così come nella scrittura non colta, per esempio i nostri elaborati scritti, o nella scrittura comune, è sostituito nei nostri messaggi, è sostituito dalla virgola. Diciamo che il punto e virgola è un segno di punteggiatura da altri tempi, usato più che altro negli autori classici. Oggi si tende, nei testi brevi, sintetici, veloci, a sostituirlo col punto, in quelli più confidenziali a sostituirlo con la virgola. Vediamo i due punti. Ora ti spieghiamo. Siamo i due punti. In effetti, i due punti dividono le frasi in parti e spesso sono elementi di collegamento logico all'interno di frasi o di periodi. Per esempio, introducono una lista, ad esempio, compiti per giovedì, due punti, studiare il capitolo 2, virgola, fare gli esercizi sul libro, virgola, fare gli schemi sul quaderno. I due punti introducono una lista. Oppure introducono il discorso diretto. Li troviamo, per esempio, nei nostri elaborati, li mettiamo spesso prima delle virgolette, prima del discorso diretto. Chiesi al primo passante, due punti, virgolette, da che parte il Duomo, ma i due punti indicano anche la causa, la spiegazione, la conseguenza di quanto è stato detto precedentemente. Asterisco, cioè, in questo caso i due punti sostituiscono le congiunzioni causali, consecutive e esplicative. Perché, cosicché, infatti, cioè, vediamo in questa tabella delle frasi scritte con le congiunzioni che diventano molto più agevoli e molto più facili da comprendere con i due punti. Ho passato tutta la mattina in piscina perché faceva davvero caldo. Ho passato tutta la mattina in piscina, due punti, faceva davvero caldo. In questo caso i due punti precedono la causa. È così maturo e preparato che salterà l'ultimo anno del liceo. È così maturo e preparato, due punti, conseguenza, salterà l'ultimo anno del liceo. Antonio aveva un forte mal di stomaco, infatti aveva mangiato troppo. Antonio aveva un forte mal di stomaco, due punti, aveva mangiato troppo. Introducono la spiegazione. E così via anche col cioè. Attenzione, i due punti, si usa, usa i due punti dopo i nomi, non dopo altre parti del discorso. Usa i due punti solo una volta all'interno dello stesso periodo. Altrimenti perderebbero la loro funzione di separare, logicamente, le parti della frase. Veniamo adesso al punto interrogativo. Ma che cosa ho in testa? Il punto interrogativo introduce, segue una frase interrogativa. Si trova alla fine di una frase interrogativa nel parlato a un'intonazione prima discendente, poi ascendente. Ma cosa ho in testa? Quindi parte discendente e poi si alza il volume vicino al punto interrogativo. In questo caso non ho messo esempi perché il punto interrogativo è abbastanza semplice da capire. Punto esclamativo, il contrario, alla fine di una frase esclamativa, ha un'intonazione prima ascendente e poi discendente. Si può trovare insieme al punto interrogativo per indicare meraviglio stupore. Per esempio, se ci facciamo una domanda del tipo, ne sei sicuro? È sì una domanda, ma indica il nostro stupore e la nostra meraviglia. Quindi può essere seguito da un punto esclamativo. I puntini di sospensione, terribili puntini di sospensione che utilizzate a sproposito nei vostri testi perché siete abituati ad utilizzarli sempre nei vostri messaggi. Innanzitutto, i puntini di sospensione sono tre, mai più di tre. Si usano come sospensione del discorso o pausa. Possono essere usati per mostrare il ripensamento. Tornerò a casa venerdì, volevo dire sabato. C'è una sospensione in cui ci ripenso. Indicano meraviglia, sospensione e disagio. Sono andato al porto e ho visto la barca dei miei sogni. Quindi, ho preso quattro in italiano. Sono dispiaciuto. Questa pausa dei puntini di sospensione indica il mio disagio. Indicano un elenco aperto. Esempio, Paolo ha tanti interessi, legge, valcina, ma gioca a tennis, golf, puntini di puntini. Cioè, fa tante altre cose. L'importante è che i puntini indicano che quella lista continua all'infinito perché ha proprio tanti interessi. Quattro, indicano un taglio volontario. In questo caso, nelle citazioni, si trovano tra due parentesi quadri. Questo non è uno strumento che usiamo nella scrittura, ma lo troviamo spesso nei libri. Qui c'è una frase dei Promessi Sposi, la Dio Monti di Renzo e Lucia, dove riportiamo alcune parti di questa frase. Dove c'è la parentesi quadra con i puntini dentro, vuol dire che è stato omesso un pezzo della frase. Così come alla fine vuol dire che la frase continua. C'è stato un taglio volontario di chi ha presentato questa frase. Virgolette, maledette virgolette che confondete sempre, Sono di tre tipi, virgolette basse, virgolette alte o apici. Si possono usare in maniera indifferente, potete usare una delle tre. L'importante è che non ne usate più di un tipo nello stesso testo. Nelle citazioni, all'interno di citazioni, si possono usare in tipo diverso. Facciamo un esempio. Leo disse a Rita, tu digli semplicemente non ti credo e vediamo come reagisce. Perché nel secondo caso, nelle virgolette alte, Leo sta riportando Lucia a quello che deve dire. Quindi fa una citazione nella citazione. Solo in questo caso si possono usare due tipi di virgolette, altrimenti sempre lo stesso tipo. Delimitano il discorso diretto una citazione. Mi ha chiesto perché ti comporti così? Oppure, mi piace molto la frase del Dalai Lama, due punti virgolette. Quando parli ripeti quello che sai, ma quando ascolti puoi imparare qualcosa di nuovo. Due, evidenziare un vocabolo usato in modo insolito, ironico, allusivo o vocabolo inventato. Esempio, devo sbrigarmi a concludere questa tortura, tra virgolette, dei compiti. Anche se per voi in realtà i compiti sono una tortura. Però usiamo tortura in modo improprio. Trattino lungo e trattino breve, di lunghezze diverse e utilizzi diversi. Li troviamo soprattutto nei libri e nei giornali, più che utilizzarli noi. Trattino lungo potrà chiudere un discorso diretto al posto delle virgolette. Stasera torno presto, disse Sofia chiudendo la porta. Oppure isolare un inciso lungo al posto delle virgole. La vita, perfino la più complicata, è bella e preziosa. Trattino breve serve a, viene utilizzato in due casi, per dividere in sillabe e andare a capo, oppure per unire due nomi e aggettivi. La partita Inter-Juventus è finita 3 a 2. Inter-Juventus è il nome della partita, ma è composto da due parole, ci metto il trattino in mezzo. Così come 3 a 2 è un risultato, è composto da due numeri, ci metto il trattino in mezzo. Parentesi tonde, vengono usate per separare o isolare. Separare un inciso breve o lungo, vorrei dirti, se vuoi un consiglio, che è meglio che studi. Inciso breve. L'ONU, un'organizzazione delle Nazioni Unite fondata a New York nel 1945, dalle potenze vincitrici della guerra, USA, URSS, Cina, Francia e Gran Bretagna, ha deciso di intervenire sulla questione. Inciso lungo. Due, segnalare date e rimandi a pagina e nome di autori. Come vedete qui, tra parentesi, c'è la data dell'elemento a cui ci riferiamo, qui c'è l'autore della frase che riportiamo. Parentesi quadre, come abbiamo visto prima, un taglio nel testo o spiegazioni di chi riporta il testo di un altro autore. Qui è la stessa cosa dei puntini di sospensione, ma è invertito. Qui vediamo la funzione delle parentesi quadre. Qui, invece, un autore che porta il testo nell'altro autore mette degli incisi esplicativi e li racchiude in parentesi quadre. In ultimo abbiamo l'asterisco. L'asterisco, quando c'è una nota o una spiegazione, quando la frase non è accettabile nella lingua italiana, quando non si vuole citare il nome proprio di una persona. Quindi, la nota, GPS, a fondo pagina troviamo Global Positioning System, espressione inaccettabile, la evidenziamo con l'asterisco, di la marattia a spiaggia è bellissima, oppure, quando non sappiamo un nome o non vogliamo dirlo, padre di Cristoforo da asterisco, 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 l'autore non ci vuole indicare il nome, era l'uomo più vicino ai 60 che ai 50. Con questo si conclude il nostro capitolo sulla punteggiatura. Arrivederci.